Patch veloci 12.15, per chi vuole entrare in ranked e ascoltarsi i bilanciamenti in Champions Select. Questa patch esce 10 luglio, e skin Monster Tamer usciranno l'11 agosto alle 22. Nerfano il First Strike, visto che dopo la durability patch sta diventando una scelta usata universalmente da certi campioni, portando il danno puro dal 10 al 9%. Da questa patch tutti i giocatori a D1 che hanno MMR Master o Superiore non potranno fare più duo. Questo è per proteggere l'integrità competitiva dell'alto elo. Ora però fixate tutte le ranked, grazie. Item modificati. Il Divine Sunderer viene nerfato nella cura per portarlo più in linea al resto degli item, tenendolo come oggetto per gestire i tank. La Mercurial Simitar adesso dà 40 di resistenza magica e l'attiva della purificazione dura un secondo e mezzo. Lo stesso per la Silver Mirror Dawn, che riceve anche lei 40 di resistenza magica e aumentando la potenza della tenacia e della resistenza agli slow ricevuti durante l'attivazione. Champ nerfati. Gwen, ridotti danni puri dal 75% al 50% sulla sua Q per renderla meno dominante in competitivo. Kalista, ridotta la D da 69 a 66 perché anche qua troppa priorità in competitivo, domina su qualsiasi voglia altro pick, riduce quella che è la varietà di campioni giocabili. Mastery, normalizzando il cooldown della E a 18 secondi ad ogni singolo livello, dato che attualmente Mastery è forte tipo ad ogni elo, cercano di tenerlo sano, cioè allo stesso livello ad ogni elo, ma senza renderlo opprimente. Kiana, minore scaling con la D per la passiva perché, porco giù da rega, c'ha il 53,5% di win rate ad alto elo e vince da sola. Vengono anche bug fissate alcune interazioni con il First Strike e l'Eletroshock ed è il minimo. Sivir, ridotta la D per livello, ha aumentato il cooldown dello scudo un casino e ha aumentato il cooldown della Suprema perché un champ che scala non può essere forte anche in early game. Thalia, aumentato il cooldown della E e ridotta la durata della ulti per spingerla un pilo pilo, meno in meta e incompeditivo, ovviamente. Champ, baffati. Akali, ora la W rigenera 100 di energia invece che 80 per renderla un attimo più giocabile di prima, non che non fosse giocabile, ma ok Riot. Kennen, più danni sulle spell da teamfight e un minore cooldown per riportarlo ad essere il re dei maghi in top lane che spaccano nei teamfight. Lee Sin, il costo di Q, W e E, nella loro seconda porzione, è stato ridotto da 30 a 25 per facilitargli la vita quando ottiene una grande quantità di abiti ace. Leona, minor costo della Q e maggiore durata dello stun sulla ulti per riportarla sopra il 47% di winrate perché ne ha disperatamente bisogno. Lily ha maggiore danno massimo contro i campi della giungla, visto che trova più successo top lane che in jungle attualmente. Rammus, ulta più spesso, salta più lontano e più velocemente. Rotola, ok? Rotola duro. Shen, facendo danno di passiva o di E, rigeneri più energia per renderlo un pelo più giocabile in più matcha possibili, ma Ehi, è già forte in top, quindi ok, grazie. Singed, corre di più e più spesso con la passiva e gli ridanno un po' di stat sulla suprema. Trash, più grab e più danni dai grab per l'uncinatore preferito delle isole ombra. No, non è Pyke, Pyke è di Bilgewater, bastardi maledetti. Zed ha ridotto il costo in energia della E e ha aumentato il cast verso l'infinito e oltre, permettendo al clone di poter roteare anche quando sei estremamente lontano. E questo è quanto per questa patch. Good luck in esports, raga.